L'amministrazione comunale può intervenire in questo caso da supporto, perché lì siamo in una proprietà privata con una volontà della regione toscana, a seguito di un dirizzo della Procura della Repubblica, per la demolizione di questo ponti. È l'assessore alla manutenzione opere pubbliche del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, a rispondere, sollecitato dalla nostra redazione, ai residenti di Rigutino, frazione del Comune Capoluogo. Qui presto verrà demolito un ponte privato che sovrasta il rio di Rigutino, che è ritenuto pericoloso per il rischio idrogeologico. Ricordo che questo intervento è un intervento che fa parte in realtà di un progetto molto più ampio, perché a seguito degli allagamenti dell'alluvione del 2019, la Procura ha aperto questa indagine su tutto il territorio comunale. Ha dato un incarico a dei tecnici che hanno portato avanti questa indagine e sono decine i ponti che devono essere demoliti. Si sta parlando di quasi una cinquantina di ponti, che sono su tutto il territorio comunale e riguardano strade comunali, strade private e strade vicinali. Nessuno si oppone alla demolizione, ne va della sicurezza delle persone in caso di esondazione, ma i cittadini chiedono una soluzione per poter attraversare in questa parte del paese e in sicurezza il corso d'acqua, evitando così di dover percorrere a piedi la regionale 71 per raggiungere servizi e negozi. Il ponte non è che non può essere ricostruito, il ponte può essere ricostruito e chiaramente deve rispettare quelle che sono le normative attuali. Chiaramente ad oggi se viene deciso di portare avanti un intervento è il privato che ci deve dire come portare avanti l'intervento e quali saranno le modalità. Qualora il privato intenda cedere le aree al comune, allora il comune può avviare la procedura per la realizzazione del ponte. Si parla di un iter chiaramente lungo perché deve essere prima ceduto l'area interessata all'amministrazione comunale, ci deve essere un passaggio in consiglio comunale per l'acquisizione di quelle che sono le aree e una volta acquisite allora potrà portare avanti quello che è l'iter di realizzazione della passerella. Noi abbiamo già parlato anche con il proprietario, fisseremo a breve un incontro per dare una risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Quindi stiamo valutando in base a quelle che saranno poi anche le volontà del privato su come poter dare una risposta a quelle che sono le varie necessità.